La mia recensione è di Zorin OS 16.2. In realtà si tratta di una famiglia di sistemi operativi GNU Linux open source rispettosi della privacy. Zorin OS è un'ottima alternativa a Windows e macOS per i principianti di Linux perché robusta, stabile e intuitiva da usare e ricca di possibilità di utilizzo con software open source gratuito. Vediamo le novità. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Di Zorin OS ho già parlato ad agosto 2021 nel blog e nel video con la recensione di Zorin OS 16. Si tratta di una distribuzione GNU Linux che con la sua semplicità di utilizzo e l'aspetto elegante e minimal che si adatta con un click ad un desktop Windows, macOS, Ubuntu e altri, garantisce un'esperienza stabile e gratificante con una selezione di programmi all'altezza di utenti più o meno esigenti. Zorin OS si definisce come l'alternativa a Windows e macOS progettata per rendere il tuo computer più veloce, potente, sicuro e rispettoso della privacy. I fratelli ucraini Artyom e Kirill Zorin hanno fatto parlare di sé in occasione del rilascio in marzo 2022 della versione 16.1 di Zorin OS. I proventi della versione Pro sono stati donati in parti uguali a tre organizzazioni umanitarie a supporto della popolazione ucraina. Solo nella prima settimana sono stati raccolti quasi 35 mila dollari. A distanza di circa altri sei mesi quindi un nuovo rilascio definito nel blog ufficiale come una serie di dettagliate rifiniture di grande impatto. Il blog riporta anche che proprio a partire dal rilascio della versione 16 il sistema operativo è stato scaricato oltre 3 milioni e mezzo di volte dal sito web e che il riscontro ottenuto dagli utenti di tutto il mondo è impressionante e fondamentale. Vediamo insieme le più interessanti novità che si sono succedute in circa un anno dal rilascio della versione 16, quali sono le edizioni di Zorin OS 16.2 e per quali utilizzi sono consigliate. La base di Zorin OS 16.2 è quella della versione di Ubuntu a lungo supporto, la 2204 LTS rilasciata in aprile 2022 e che riceverà supporto e aggiornamenti fino al 2025. Il kernel scelto per il rilascio è quello 5.15 e garantisce ottima stabilità e supporto per hardware recente. Come schede Nvidia è inclusa la GeForce RTX 4090, schede grafiche AMD Radeon e Intel, portatili con Intel di dodicesima generazione e molte altre periferiche wifi, bluetooth e audio. Le edizioni di Zorin OS 16 e successive supportano solo architetture a 64 bit. Per quelle a 32 bit è ancora disponibile, supportata ed aggiornata fino ad aprile 2023 l'edizione Lite di Zorin OS 15.3. Molti utenti Windows che non conoscono Linux hanno il timore di affrontare un passaggio ad un ambiente con software completamente differenti da quelli cui sono abituati. Pochissimi di questi utenti sanno che la stragrande maggioranza dei programmi rilasciati per ambienti Windows è installabile ed utilizzabile anche in ambiente Linux grazie al sistema di emulazione Wine. Questo software consente di eseguire file .exe ed installare programmi destinati a Windows. In Zorin OS, a differenza di tante altre distribuzioni GNU Linux, il software di emulazione Wine è integrato nell'installazione e preconfigurato. L'articolo ufficiale sul rilascio di Zorin OS 16.2 ci spiega che il meccanismo è stato ulteriormente perfezionato. Apri il menu, cerca installazione app Windows e attiva Wine con un clic. Successivamente fai semplicemente doppio clic su un file .exe per Windows e sei in grado di avviare e installare, se non tutti, moltissimi programmi. Zorin OS affianca all'emulatore Wine preconfigurato un database di applicazioni e giochi popolari per Windows. Questo consente di integrare soluzioni per riconoscerle al momento dell'installazione e sfruttare particolari configurazioni per farli funzionare a dovere anche in ambiente Linux. Un ottimo modo per attrarre utenti verso un sistema operativo intuitivo e facile da usare. Con l'eleganza minimale di un desktop e di un aspetto adattabile con un clic a rispecchiare Windows, Mac ed altre cosiddette metafore desktop. Una interessantissima personalizzazione del sistema operativo disponibile a partire da Zorin OS 16.2 migliora la compatibilità dei documenti redatti con Microsoft Office e caratteri proprietari Microsoft. La licenza di questi caratteri tipici di Windows impedisce che essi possano essere rilasciati in sistemi operativi gratuiti. L'assenza di caratteri con cui i documenti sono stati redatti in ambiente Microsoft è ciò che determina talvolta incompatibilità, errori di impaginazione e formattazione in cui talvolta gli utenti LibreOffice si imbattono all'apertura. Nel video su LibreOffice della serie Usare Linux Mint per Lavoro suggerisco alcune modifiche per sostituire caratteri proprietari Microsoft non disponibili in Linux con altri open source di aspetto identico. Questo in modo da migliorare la compatibilità con documenti redatti con Windows e Microsoft Office e relativi tipi di caratteri. Ebbene, Zorin OS 16.2 prevede l'integrazione di tanti caratteri open source, sostituti naturali di caratteri commerciali Microsoft e prevede regole di sostituzione automatica dei casi più frequenti nei documenti Microsoft Office aperti con LibreOffice. Ed il risultato è eccezionale e innalza di tantissimo la già migliorata compatibilità di LibreOffice 7.4 con Microsoft Office. Più di quanto facciano altre distribuzioni GNU Linux che si limitano ad installare la suite di programmi. Bravissimi. LibreOffice 7.4 significa infatti migliore compatibilità con Office 365, miglioramenti all'interfaccia, notevole miglioramento nelle prestazioni in fase di apertura ed esportazione. Poi miglioramento di modalità collaborative, supporto per nuovi formati di immagini ed altri. Di Zorin Connect ho già parlato nella recensione di Zorin OS 16. È un software installato nel PC associato ad una app gratuita installabile da Google Play su dispositivi Android. Consente di connettere telefono o tablet tramite wifi al computer, per ricevere notifiche del telefono sul desktop, visualizzare foto scattate dal telefono nel PC, gestire messaggi e usare lo smartphone come touchpad e telecomando. Non è una novità nel panorama Linux perché derivata da un'idea del progetto GNOME, ma è un ottimo ingrediente per fornire ad un principiante un sistema operativo assolutamente aperto e ricco di possibilità di connessione che non richiedono configurazione alcuna né necessità di essere un esperto di Linux. Zorin Connect è stato ulteriormente messo a punto ed è stata aggiunta alla visualizzazione del livello di batteria del notebook nel telefono. Altre novità della app Zorin Connect per Android consentono l'invio di testi selezionati e copiati nel telefono direttamente al PC. È stata aggiunta all'opzione per mostrare nel desktop notifiche solo se lo schermo del telefono non è attivo. Aggiunge le opzioni Loop e Shuffle per il controllo da Android di un software di riproduzione audio compatibile. Introduce nuove opzioni di invio di comandi Linux al PC. Assieme alle edizioni Core, gratuita e Pro a pagamento, alle edizioni Lite per computer più datati, la famiglia di sistemi operativi Zorin OS prevede una edizione rivolta alle scuole e all'ambito didattico. Si tratta di un progetto interessantissimo che riprende un'idea abbandonata da anni come quella di Edubuntu. Zorin OS Education include tutti gli strumenti software utili per ambiti didattici, dalla prima infanzia fino a programmi dedicati specificamente a matematica, scienza, geografia, lingue, musica e altre materie. Apprezzatissime app interattive consentono a studenti di ogni età di afferrare nuovi concetti in modo più semplice e rendere l'apprendimento interessante e coinvolgente. Parlo di una vera miniera d'oro non sfruttata. L'edizione Lite Education include i medesimi programmi in un ambiente desktop più leggero e adatto a vecchi PC con architetture a 64 bit con qualunque caratteristica hardware. Computer spesso buttati per l'inadeguatezza con Windows sono facilmente rimessi in sesto per uso didattico e per la leggerezza dell'impatto del software quanto a potenza. Veion, poi, soluzione software open source gratuita e completissima, consente a un'insegnante di controllare l'intera classe o trasmettere il proprio schermo agli studenti. Ecco un abbattimento di costi e risorse destinabili ad altri aspetti carenti dell'istruzione. Con la quantità di denaro speso oggi in licenze e di software proprietari sarebbe una boccata d'ossigeno. Il codice dell'amministrazione digitale è praticamente inapplicato quanto all'obbligo dell'articolo 68 per i dirigenti del settore pubblico di scegliere software proprietario e a pagamento solo se altre opzioni non si dimostrano adeguate. Province che spendono milioni di euro annuali per licenze Microsoft nelle scuole quando ci sono sistemi operativi già pronti all'uso a fine installazione, supportati e aggiornati continuamente, gestibili in numero da remoto e pronti per l'educazione del nuovo millennio. Ne parlerò prossimamente. Dai un'occhiata alla mia video recensione di Zorin OS 16 per conoscere i dettagli delle applicazioni specifiche preinstallate nell'edizione Education. Nella versione 16.2 molte sono le novità proprio per quanto riguarda gli strumenti educativi, tra cui l'inserimento del software GDevelop, un software completo per la realizzazione di videogames che non richiede la conoscenza di codice di programmazione e che permette agli studenti di assecondare la propria creatività. E siccome molte cosiddette estensioni per il desktop GNOME sono compatibili con Zorin OS Core Pro ed Education, va segnalata Reading Strip. Funziona come guida alla lettura per computer ed è davvero utile per le persone affette da dislessia. Aiuta i bambini a concentrarsi a leggere molto bene, segna la frase che stanno leggendo e nasconde la precedente e la successiva. È già utilizzato nei progetti educativi in molte scuole. Zorin OS si scarica preferibilmente dal sito ufficiale. In un PC moderno sceglierai la edizione Core o acquisterai una licenza Pro per sbloccare tutti i temi grafici e più che altro per avere assistenza personalizzata all'installazione. I programmi preinstallati nella Pro sono open source, gratuiti e installabili comunque nella Core. In un PC più vecchio potresti scegliere una delle edizioni Lite. Ancora è disponibile e supportate da giornata fino ad aprile 2023 anche la versione Lite 15.3 che prevede ancora il supporto per architetture a 32 bit. A seconda delle edizioni scelta, le immagini ISO possono variare da circa 2,6 GB della Lite agli oltre 5 GB della Pro e della Edu e questo influenza i tempi di installazione. In ogni edizione, malgrado io abbia selezionato l'opzione per scaricare aggiornamenti già rilasciati in fase di installazione, non ho mai impiegato meno di mezz'ora per installare un'edizione di Zorin OS 16.2. Alla prova dei fatti, chi già conosce ed usa Zorin OS 16 si ritroverà automaticamente il sistema operativo aggiornato alla versione 16.2 e non incontrerà molte differenze se non quelle citate. L'edizione Pro, completamente aggiornata, al termine del caricamento del sistema tiene impegnato circa 1,5 GB di memoria RAM. Fa di meglio l'edizione Lite, basata a una modifica dell'ambiente XFCE o X-Face, che impegna RAM per circa 1 GB. Il sistema è sempre fluido e gli effetti di trascinamento e massimizzazione delle finestre nella cosiddetta modalità gelatina sono state migliorate, ma la funzione è opportunamente disattivata perché impegna potenza di calcolo che richiede caratteristiche e prestazioni buone nel PC. Mi sembrano prestazioni molto più ottimizzate rispetto alle mie prove dell'estate 2021. Come accennato, il più interessante avanzamento del sistema operativo riguarda il kernel 5.15 e quindi compatibilità hardware aumentata anche per i PC più recenti e soprattutto programmi preinstallati e aggiunti successivamente dallo store si trovano in versione ben più aggiornata. All'indirizzo zorin.com slash help trovi informazioni per l'installazione, configurazione e risoluzione di problemi comuni. È molto ricca, chiara, ben fatta, con screenshot e impaginazione accurata, anche se per ora solo in inglese. Trovi anche l'accesso al forum degli utenti o al supporto che si ottiene con l'acquisto della versione Pro. Per ulteriori informazioni su questa valida distribuzione GNU Linux ti segnalo nuovamente la mia recensione di Zorin OS 16. Non sono stato ripetitivo in questo video, quindi se vedi anche quello ti fai un'idea completa del sistema operativo oggi. Altre informazioni su Zorin le trovi nel video i migliori distribuzioni Linux per principianti 2021. Ne sto per preparare uno nuovo con le distribuzioni che consiglio a chi Linux non l'ha mai provato. Zorin OS non mancherà di certo. Grazie per aver visto il video e a presto per la recensione di Linux Mint 21, le distro migliori per i principianti per il 2023 e le distribuzioni Linux più leggere.